Un caro saluto da Francesco dal canale di The Sun Astrology. Come di consueto settimanalmente ritorniamo nella rubrica della settimana che è quella dell'oroscopo che ha lo scopo di valorizzare la dinamica dei pianeti visibili, dei pianeti delle luci del cielo nei loro aspetti esatti che si formeranno durante la settimana. Prima di partire con l'oroscopo della settimana vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate una serie di link che vi permettono di entrare in contatto con me. Io ricevo, come sapete, sulla piattaforma di Kang Italia, che è questo portale dove una serie di professionisti nell'ambito dell'astrologia e della tarologia forniscono i loro servizi in modo professionale, in modo sicuro. Quindi trovate attraverso questi link la possibilità di svolgere anche un'indagine astrologica o tarologica con me. Ne approfitto per dirvi, già molti di voi mi seguono anche su Kang Italia, che la consulenza astrologica quanto tarologica è uno strumento, è un modo di vedere la realtà che ci circonda sotto un altro punto di vista, che è quello del linguaggio simbolico. Quindi simboli, in questo caso del cielo, ci portano ad un ragionamento, ci forniscono la possibilità di ragionare in modo diverso, in un certo senso in modo distaccato dalla razionalità. Quindi ci fanno vivere le cose della vita non in modo immerso, non in modo coinvolto, ma diciamo in modo un po' più distante, quindi osservando le cose che ci riguardano con un occhio più simbolico. E quindi ecco che le tecniche astrologiche, come anche le tecniche tarologiche, non sono altro che uno strumento di lettura simbolica e anche in un certo senso artistica della nostra vita, che viene quindi elaborata, osservata, attraverso le dinamiche del cielo o dei simboli che possiamo rintracciare nella via dei tarocchi. La consulenza con me avviene su Kang Italia, ormai sapete che mi trovate su Kang Italia dalla mattina fino al pomeriggio, fino alle 18 e 30 circa, oppure c'è la possibilità di prenotare un'indagine che è registrata su un videoclip che vi sarà mandato in privato questo video, dove potrete richiedere un'indagine un po' più articolata, un po' più tecnica, per esempio per l'analisi del proprio tema di nascita o per l'indagine della cosiddetta rivoluzione solare o per quello che prende il nome di astrologia delle interrogazioni o astrologia oraria. Trovate questi link che vi permettono appunto di fare, di approfondire una questione che vi è a cuore con queste tecniche, con la tecnica astrologica e della tarologia. Alcuni di voi mi hanno chiesto come avviene questo tipo di consulenza. Beh, si parte intanto da una domanda pratica, da una domanda precisa. Se vogliamo fare una consulenza telefonica, che è quella più richiesta, si deve partire ovviamente da una questione. Io non sono né veggente né sensitivo, assolutamente non ho questi doni, ma interpreto invece la dinamica del cielo come anche le dinamiche simboliche che possono emergere per esempio in una stesura di tarocchio, vi ricordo che appartengo alla scuola di Jodorowsky. Quindi possiamo attraverso, partendo da una domanda, affrontare la questione e ragionarci insieme. Quindi lo scopo di una consulenza non è quella di ricevere un destino, un fato inappellabile, ma è ragionare in particolare sul momento che stiamo vivendo, quindi sul periodo, sull'attualità. Attraverso gli aspetti della astrologia, le tecniche dell'astrologia, attraverso le tecniche anche tarologiche della via dei tarocchi, possiamo mettere in relazione quello che ci accade nella realtà con la dinamica dei simboli e rintracciare in queste dinamiche un linguaggio, cioè un momento di introspezione, di riflessione. Quindi la consulenza astrologica e tarologica è quella che rientra nelle cosiddette consulenze olistiche e umanistiche, che quindi hanno uno scopo di ragionamento, non tanto di decretare un destino inappellabile. Quindi potete svolgere questa consulenza con me vedendo i link che sono presenti nella descrizione di questo video. Bene, vi chiedo scusa per questa parentesi, ma ogni tanto vi devo dare queste indicazioni perché alcuni di voi nei commenti lasciano delle richieste dove mi chiedete come poter accedere alla consulenza. E quindi partiamo con l'oroscopo della settimana, questo va dal 20 al 26 febbraio. Vi ricordo l'oroscopo è un momento, una rubrica di intrattenimento leggera perché ricordate che qualsiasi tipo di questione privata deve, se la vogliamo affrontare per esempio con il linguaggio astrologico, deve partire con lo studio del proprio tema di nascita. Partiamo subito dopo. la sigla introduttiva. A tra poco. E partiamo come al solito dagli efemeridi che vedete sullo sfondo. Vi segnalo giusto il fatto che il sole sta transitando in pesci, quindi nella settimana che va dal 20 al 24 il sole è transitante in pesci. Il sole che transita in pesci ci ricorda che ci troviamo nella parte finale dell'inverno perché il segno pesci è un segno bicorporeo. Si usa questo termine per definire un segno che è dotato di due corpi. Il segno che è dotato di due corpi rappresenta cosa? Un segno che si collega ad una stagione e si collega anche ad un'altra stagione. Quindi è un segno che potremmo quasi definire ponte tra due stagioni. Un ponte di passaggio in questo caso, quindi quando il sole transita in pesci ci troviamo in inverno, ma il segno pesci è il ponte dall'inverno alla primavera. E lo notiamo anche intorno a noi con la natura che inizia timidamente a risvegliarsi. Poi vedremo la vita che ritorna ad esplodere quando poi il sole entrerà in ariete che quindi andrà a sancire l'inizio della primavera. Vi ricordo i segni non hanno nulla a che fare con le costellazioni. I segni sono porzioni del cielo con cui viene divisa quella che si chiama eclittica, cioè il percorso apparente del sole che viene diviso in 12 parti esatte. Ogni parte ha un'ampiezza di 30 gradi e quindi i segni quando noi li evochiamo in ambito astrologico ci stiamo riferendo a dei segni che rievocano le stagioni. Quindi i segni intendono rievocare i tempi stagionali che il sole decreta nel suo moto apparente. Quindi il segno dei pesci è un segno invernale ma è anche un segno ponte, c'è un segno bicorporeo, un segno di passaggio che ci sta preparando alla stagione primaverile che apprezzeremo sicuramente meglio con il sole in ariete ma già in questa fase del sole in pesci cominciamo a vedere attorno a noi l'atmosfera, la natura che comincia a cambiare, che timidamente cerca di riprendere vita e quindi questa vita poi esploderà con l'ingresso del sole in ariete. Abbiamo in questa settimana un passaggio importante di venere perché entra venere il 20 febbraio in ariete quindi ultima il suo transito nel segno dei pesci quindi questo è un momento interessante per il passaggio anche di venere in ariete. Per gli altri pianeti insomma siamo nelle stesse situazioni che abbiamo affrontato l'altra volta in particolare vi segnalo che per questa settimana avremo il perfezionamento della quadratura tra mercurio urano e del trigono tra mercurio e marte. Vi ricordo ormai ve lo sto dicendo da un po di tempo siamo prossimi al passaggio di plutone in acquario quindi plutone è un pianeta generazionale per l'astrologia è considerato pianeta è un pianeta generazionale quindi stiamo in un passaggio molto particolare e delicato di plutone dal segno del capricorno al segno dell'acquario come già vi ho detto in altri approfondimenti vi ho già spiegato questo plutone insomma è un plutone molto particolare anche per quello che stiamo vivendo sul piano sociale politico è un plutone particolare perché appunto c'è il passaggio da un segno all'altro e vi ho già detto che i generazionali urano nettuno plutone quando cambiano segno coincidono spesso e frequentemente a momenti della storia del mondo a momenti della storia collettiva delicati momenti importanti nel bene o nel male che comunque segnano dei tempi ciclici che l'astrologo che l'astrologia vede attraverso anche le cicliche di questi pianeti come insomma è risaputo nel caso di andrè barbò astrologo della comunità francofona che per tutta la sua vita insomma ha dedicato tutta la sua vita proprio allo studio dei tre generazionali nelle dinamiche del collettivo ma sul piano più diciamo di intrattenimento quindi giochiamo anche un po con il cielo quindi vediamo un po la condizione di questa di queste giornate di questa settimana quindi ripeto settimana che va dal 20 al 26 allora intanto partiamo da questo ingresso di venere in ariete che è un ingresso sicuramente interessante per i segni di fuoco quindi ariete leone sagittario è un ingresso che permette a questi tre segni di fuoco di operare con grazia con stile con senso di gusto è una venere che può per i tre segni di fuoco ammorbidire tutte quelle situazioni che sono tese sono state rese tese negli ultimi giorni nelle ultime settimane perché venere è un pianeta definito come benefico quindi unitamente anche a giove venere diciamo sfiamma venere fa diminuire gli eccessi venere aiuta a ristabilire un certo grado di tranquillità con gli altri quindi per ariete leone sagittario da questa settimana si apre un interessante momento anche nella sfera affettiva insomma venere è pianeta dei sentimenti dell'amore ma è anche un pianeta che ci parla della cura del nostro corpo del senso estetico della cura proprio del corpo in senso anche appunto di immagine quindi ariete leone sagittario potrebbero essere anche in un fermento legato al proprio stile alla propria immagine a cambiare la propria immagine oppure a dedicarsi anche a momenti di cura del proprio corpo per ritrovare quell'equilibrio in se stessi e con gli altri perché per arrivare ad un equilibrio con gli altri ricordate dobbiamo prima stare noi in equilibrio dobbiamo stare noi bene per poter vivere no in modo armonioso anche le opportunità della vita che possono provenire dall'interazione con gli altri a proposito di interazione con gli altri sicuramente questa venere in ariete parla di amore per i segni ariete leone sagittario quindi da questa settimana si presentano delle situazioni si possono presentare delle situazioni che simbolicamente richiamano l'ingresso di venere in ariete quindi passione trasgressione o comunque un maggior coinvolgimento nelle questioni affettive e della relazione la settimana inoltre vede il perfezionamento della quadratura di mercurio urano e mercurio e di trigono mercurio marte che per i segni di fuoco è assolutamente positiva come dinamica quindi lavoro questione lavorativa professionale dovrebbe insomma in questa settimana essere stimolante ma in modo piacevole e portare anche insomma a dei risultati interessanti per questa settimana quindi possiamo dire che anche il lavoro procederà insomma con 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 risultato e con profitto mentre per i segni gemelli acquario questa venere in ariete anche positiva quindi gemelli acquario venere entra in ariete e quindi è per voi diciamo in un aspetto amico è un aspetto di sestile il sestile rappresenta ve l'ho detto in tante occasioni uno strumento che viene dato nelle mani del segno quindi gemelli acquario in un certo senso non che venere vi porti l'amore ma vi dà uno strumento per arrivare all'amore per chi vuole per chi vuole aprirsi a situazioni nuove cioè venere da ai gemelli e all'acquario l'impulso quindi qui dipende dalle situazioni di ognuno di voi vi ricordo mercurio è in acquario quindi è un mercurio benefico sia per i gemelli per l'acquario in questo momento quello che potreste percepire in questo periodo è un risveglio dei sensi è un risveglio di una certa curiosità è un risveglio di certi interessi dipende ora dalla situazione di ognuno di voi quindi se parliamo di un gemelli o di un acquario all'interno di una relazione in corso sicuramente venere in ariete e le dinamiche di mercurio aiutano a creare una maggiore coesione con la persona che avete accanto a creare cioè quelle situazioni più di rafforzo anche del rapporto di sicurezza di convincimento di quello che si sta vivendo quindi in questo caso abbiamo una situazione di conferme in arrivo nella relazione affettiva ma anche attenzione nelle questioni legali lavorative burocratiche è un momento molto buono per i gemelli acquario per risolvere anche tutto ciò che è rimasto sospeso tutto ciò che può essere pratica legale o burocratica o questioni sospese anche in ambito professionale che in questa settimana che va dal 20 al 24 potete sciogliere potete risolvere se abbiamo un gemelli o un acquario in uno stato di single che sono single sicuramente l'ingresso di venere in ariete aiuta a come dire a riprendere anche una certa attività verso il mondo e verso gli altri può quindi arrivare con questa venere in ariete per i single degli stimoli interessanti dall'ambiente ma essendo appunto una venere in se stile non offre un ingresso di un amore che stravolge perché la venere in se stile fa rimanere con i piedi per terra porta comunque una prudenza in un periodo in cui mercurio comunque è favorevole ci fa pensare a un gemelli e un acquario in ricerca di nuovi stimoli prima di tutto legati all'intelletto alla mente alla curiosità c'è voglia di novità quindi ecco che la socialità può riprendere le dinamiche con gli altri possono riprendere conoscenze nuove in arrivo o se sono in corso ci sono delle situazioni interessanti stimolanti che possono prendere vita da sicuramente approfondire poi nel tempo passiamo poi ai al segno pesci e al segno vergine in questo caso abbiamo una venere che non forma aspetti così stimolanti o così convincenti anche mercurio non è così stimolante convincente intendo dire per le questioni affettive questa venere questo mercurio gli aspetti che mercurio forma con urano e marte anche in gemelli per pesci e vergine rappresenta un concentrarsi molto di più sulle questioni della professione questione legale questione amministrativa cioè in questa fase diciamo che l'amore non è così sviluppato non è così sottolineato diciamo dalla dinamica celeste quindi è un momento in cui potremmo immaginare il segno pesci e il segno vergine concentrato più su altre questioni della vita questioni più amministrative più pubbliche più pratiche che possono quindi riguardare la gestione anche semplicemente della casa delle cose private ma non intese in ambito affettivo più pratiche quindi una gestione anche del lavoro delle scadenze sicuramente se pesci e vergine sono in un periodo in cui attendono risposte da questioni che possono essere legali o amministrative da finanziamenti risposte da banche cose di questo genere la dinamica che crea mercurio e questo ingresso di venere in ariete che è un ingresso diciamo carmico può riattivare situazioni rimaste ferme da cui appunto aspettate risposte che non dipendono da voi ma da ma dagli altri quindi in un certo senso una settimana dove si muovono ecco più gli altri verso di voi che voi verso gli altri e questo produce un'atmosfera una situazione celeste dove diciamo potrebbe essere favorita la dinamica lavorativa il portare avanti i progetti lavorativi riuscire a sbloccare certe situazioni ferme da un po' di tempo riprendere in mano anche delle questioni del vostro passato che ora possono trovare le condizioni migliori per arrivare a risposte a conferme e a passi in avanti quindi a in particolare per il segno pesci e vergine la sfera professionale pubblica ad essere diciamo così rappresentata dal cielo di questa settimana meno quella affettiva poi abbiamo il segno scorpione e toro qui venere anche non ha un ruolo così stimolante per lo scorpione e il toro giusto diciamo venere comunque ha sempre un significato in particolare venere in ariete per lo scorpione perché venere in ariete è detta una venere nella casa di marte e marte è un pianeta che governa lo scorpione quindi sicuramente c'è una risonanza di venere con lo scorpione meno con il toro quindi per lo scorpione è una settimana dove sì le dinamiche affettive possono avere un ruolo possono avere un significato possono avere un coinvolgimento ma in una dimensione comunque tensiva perché abbiamo mercurio che è ostile sia lo scorpione che al toro quindi mettendo questi due segni insieme è il focus da farsi è in particolare sulla dinamica mercurio urano mercurio urano raggiungeranno un aspetto di quadratura a inizio settimana la quadratura tra mercurio e urano rappresenta il concetto del fraintendimento quindi mercurio signore della parola signore del verbo signore delle comunicazioni con urano che rappresenta il signore delle cose imprevedibili le cose improvvise che diciamo sfuggono dal controllo della razionalità mettendo insieme queste due simbologie in un aspetto di tensione di quadratura è ovvio che potremmo immaginarci per la settimana che va dal 20 al 26 una una fase tensiva una fase di maggiore predisposizione alla discussione alla tensione con gli altri a momenti appunto di fraintendimento quindi di incomprensione quindi c'è un momento anche di rallentamento di cose che vengono perdute per esempio la quadratura mercurio urano viene interpretata da alcuni autori come anche la perdita di oggetti preziosi o di documenti che perdiamo ecco di situazioni quindi impreviste che in qualche modo portano una tensione portano un momento tensivo di nervosismo situazioni che improvvisamente si presentano nel nostro vissuto creandoci delle ingerenze appunto delle situazioni da dover gestire inaspettate che accumulano quindi un po di stress specialmente sul piano psicologico e mentale quindi una settimana per carità niente di così tensivo però secondo la dinamica di queste simbologie di questi pianeti possiamo aspettarci per lo scorpione il toro una settimana un po tensiva un po problematica e i problemi ci sono anche per gli ultimi tre segni che vi riporto che sono quelli del capricorno del cancro e della bilancia una parentesi la possiamo fare per la bilancia perché sicuramente la bilancia riceve una opposizione da venere e quindi è un aspetto un po particolare quello della opposizione però la bilancia riceve anche il trigono di mercurio in acquario quindi venite la bilancia è in un certo senso supportata da mercurio e mercurio è un importante simbolo di connessione tra noi e gli altri è anche un mediatore quindi venere opposta significa il dover in qualche modo dare ascolto al proprio corpo al proprio corpo intendiamo ai propri limiti quindi è una settimana che la bilancia deve riconoscere qualche proprio limite qualche situazione dove non si può fare nulla dove ci si deve arrendere a qualcosa dove si deve accettare diciamo così una realtà oggettiva senza continuare a lottare a combattere con i cosiddetti mulini al vento quindi in questo momento la dinamica di venere rievoca un po no il mito di donkey shot per la bilancia questo mito è in qualche modo in emersione quindi è una fase dove dovete riconoscere le aree della vostra vita dove è inutile continuare a insistere su certe cose e saper lasciare andare ma anche un momento in cui la bilancia deve accogliere appunto le novità le situazioni che cambiano attorno una settimana non necessariamente negativa per la bilancia però dove ci sono delle responsabilità un po più domestiche un po più private legate alla sfera anche della famiglia dei figli delle questioni anche private anche del rapporto della relazione quindi situazioni da gestire non di per sé negative o distruttive ma dove bisogna prendere atto di qualche cosa che vi circonda piuttosto che continuare a portare avanti diciamo così delle guerre inutili quindi è arrivato il momento di fare un passo indietro anche laddove dall'altra parte non viene recepito il vostro messaggio no quante volte capita che non ci sentiamo compresi dagli altri e insistiamo sulle nostre posizioni a volte di fronte insomma ad una evidente incomprensione potremmo anche accettare di lasciar correre cioè di lasciare che l'altro pensi ciò che vuole punto quindi c'è questo tipo di dinamica nella bilancia diversa invece la situazione del cancro e capricorno che vi ho lasciato come ultimi segni perché questa venere è un po più insidiosa e non avete nel vostro caso l'appoggio di mercurio quindi in questo caso cancro e capricorno una settimana dove è probabile che le relazioni affettive che sono in corso vadano verso una fase di tensione di incomprensione più legata quindi al partner momenti di delusione che possono in qualche modo provenire dalla persona che avete accanto oppure il contrario cioè vostri atteggiamenti vostri comportamenti di ingerenza o atteggiamenti in un certo senso che vengono recepiti male dalla persona che avete accanto e questo può innescare un momento di tensione di difficoltà in questa fase sicuramente anche perché siamo in un momento diciamo così celeste particolare questo passaggio di plutone dal capricorno all'acquario quello che sento di dire specialmente al cancro e al capricorno è in qualche modo di agire di operare in ogni situazione con moralità e con etica con un senso etico l'etica corrisponde a un senso estetico anche quindi dovete comportarvi con onestà con pulizia nei confronti di tutto ciò che avete attorno in questo momento i comportamenti machiavellici ambigui non chiari non corretti ingiusti verso gli altri possono in un certo senso essere ingigantiti evitate le ingerenze che sono un po più tipiche del capricorno che insomma intende sempre dire la sua e mettere mano ovunque cercate di rispettare gli spazi degli altri cercate in questo momento di riconoscere queste aree tensive proprio per esorcizzare usiamo questo termine questa venere in ariete che è un po insidiosa che quindi può portare nel cancro e nel capricorno quei comportamenti di ingerenza o quelle situazioni tali che possono innescare con l'altro momenti di tensione e di incomprensione bene con questo concludo la rubrica della settimana come al solito ci ritroveremo per la prossima settimana per il prossimo oroscopo settimanale vi ringrazio per l'attenzione un saluto da francesco e dal canale di design astrology a presto